Settembre Tre mesi di guerra, trecentomila siriani, i padri, le madri, i figli che vanno via e passano tra i soldati ai confini d'Ungheria e scappano tre campi di girassone. La cancelliera tedesca capì la situazione, vide la guerra e prese le sue misure. Se è vero che siamo in guerra diventerò guerriere, non solo testimone della paura. E dal quartier generale spedì un messaggio chiaro. Questi non sono i soliti clandestini, i profughi che accogliamo dentro i nostri confini. Fuggono da gerarchie criminali. E dentro il caffè d'Oriente in mille conversazioni commentano lo scandalo dei siriani che sono dei musulmani che fuggono dai musulmani. I crociati risultano quelli buoni. Settembre dell'offensiva mediatica occidentale Il Papa benedice la bella Havana E dice che sarà la misericordia cristiana A vincere la terza guerra mondiale Il giubileo per un anno tra cantice e preghiere Mobiliterà i fedeli sulla terra Le schiere della pace contro quelle della guerra Difficile confondere le bandiere Settembre si prepara a vendemmiare battaglie Mobilitando l'anima occidentale E quando saremo pronti a sconfiggere il male Suoneremo le campane a mitraglia Grazie per la visione!